Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuti a una puntata, abbiamo ospite un giovane cantatore, Dani N. Buonasera A questo punto la prima domanda, per chi non ti conosce? Come descriveresti Dani N? Beh, io in realtà mi descrivo come un ragazzo realmente semplice che ogni tanto ha così dei pensieri un po' più profondi che poi sviluppa in quello che mi piace fare, ovvero nella musica, nello scrivere testi, nel produrre canzoni. Beh, tutto qui. A questo punto parliamo del terzo, del secondo singolo da solista, cioè veramente come nasce questo brano, da cosa è tratto ispirazione, anche se poi un pochettino nella copertina si comprende. Sì, allora, questo brano nasce perché due miei cari amici stavano vivendo un momento difficile che poi purtroppo c'è stata questa rottura inevitabile della loro relazione e quindi da lì mi è partita la scintilla, come dire, perché io stavo lavorando appunto i miei progetti musicali, è chiaro che sono tutti a tema bellici, quindi Ordigni, Deuterio, venivano tutti la stessa immagine per lo più, ma con temi diversi. Se in Ordigni ad esempio parlavo appunto dell'incapacità di affrontare determinate situazioni, in Deuterio parlo principalmente di questa fase di rottura. è usato questa analogia con un vecchio Ordigno che poi è stato dismesso, che non è stato utilizzato ed era l'Ordigno, quello lì, la bomba, uno dei tentativi di bomba atomica che utilizzava l'idruro d'uranio, bomba all'idruro d'uranio. All'interno c'era il Deuterio che veniva utilizzato come, insomma, moderatore neutronico, insomma, un delirio, basti pensare alla fine che in realtà il titolo è proprio questo, che questo Deuterio dovrebbe servire a moderare la reazione, e però, ahimè, l'esplosione per quanto può essere contenuta è inevitabile. Quindi proprio il tema centrale è questo, del pezzo. E abbiamo visto appunto una copertina dove in realtà c'è questo chimico, però che si affaccia è un'attivazione drammatica di questo mondo di fiamme. Sì, perché anche nel testo della canzone stessa cerco spesso di richiamare delle immagini a chi ascolta i miei brani. Tanto è vero, che ne so, la poetica di un tempo avrebbe esordito all'inizio proprio del brano con i tuoi occhi verdi come la felpa mia che indosso quando vado, quando esco la sera. Un po' poetico così. Invece un'immagine più chiara, diretta, anche per chiunque l'ascolta, io infatti dico i tuoi occhi verdi come la felpa mia ha ottenuto questa poetica, perché altrimenti normalmente uno direbbe come la mia felpa, non come la felpa mia. Come la mia felpa che indosso la sera quando vado al parcheggio, quando sai che incontri i miei amici, ecco. Quando faccio, quando seguo la mia vita. E infatti l'immagine della copertina di questo chimico che guarda fuori dalla finestra rappresenta proprio lui che vede tutta la sua vita stravolgersi. perché tutto quello che lui sta vivendo nel brano stesso è il suo immaginario. Infatti all'inizio del brano ci sono degli elementi, ad esempio ho fatto introdurre questo cinematografo, questo suono iniziale, proprio per dire che è la sua rappresentazione della realtà, quello che lui sta vedendo, quello che sta immaginando, perché tante volte uno è anche vittima di quello che lui percepisce, tante volte non di quella che è realmente la realtà. E quindi lui non riesce ad accettare questa fine della relazione e di conseguenza ne rimane ossessionato. Ne rimane ossessionato e continua a riviverla, a rivederla continuamente. E ci soffre chiaramente. Nella realizzazione dei tuoi testi riesce ad essere un po' più longevo come nel trap, oppure come nell'inglese, dove il testo è un po' più sintetico, un po' più esplicito forse? Beh, tendenzialmente io sono più longevo, nel senso che cerco sempre di mettere tante parole, e infatti tante volte può essere sia una risorsa, perché ti permette di dire tutto quello che vuoi, ma è una limitazione, perché poi diventa complicato anche poi associare una melodia a un testo così lungo. Più che al trap, insomma, io non me ne voglia nessuno, paragone assurdo che non oserei mai di fare, però dai grandi cantautori come Fabrizio D'Andrea, Guccini, che i loro testi erano pieni di testo, anche magari tanta melodia, ma tanto testo. Invece nascono prima le parole, appunto, 11 testi, oppure nasce la musica, oppure possiamo dire che accidentalmente nascono insieme, in questo caso. Quasi sempre accidentalmente nascono insieme, perché io nasco come produttore, prima che come artista, cantante e scrittore, e di conseguenza, il più delle volte, io mi trovo a avere un'immagine nella mia testa, quindi un'immagine di quell'emozione, di quello che mi trasmette, il sentimento a cui voglio, cioè, di cui voglio parlare nel brano, e successivamente queste immagini le trasformo inizialmente in musica, e quello che aggiunge la musica che sto ascoltando alla mia immagine nella mente del pensiero e dell'emozione, mi fa scaturire il testo. Invece che differenza c'è a questo punto, poi dico produttore, che differenza c'è tra essere produttore ed essere produttore di te stesso, comunque scrivere tutto quanto e poi metterlo in pratica, cantarlo. Allora, mi è capitato appunto di produrre anche per altri e molte volte è più facile per certi versi, perché questo ti permette di mantenere una sorta di barriera, perché io sì, ti faccio la produzione, magari ti scrivo il testo su quelli che sono i tuoi parametri, quello che mi indichi, però mantengo sempre una barriera, perché cerco di dire sempre quello che tu vuoi trasmettere al pubblico. Invece quando sei tu in prima persona a doverti mettere in gioco, all'inizio c'è un attimo di... per dire sono pronto, posso farcela, alla fine in queste cose poi bisogna buttarsi, ma sempre nella vita bisogna buttarsi e fare quello che si sente, perché altrimenti la vita è così, è velocissima. Invece abbiamo detto che questo singolo ancora lo devi cantare al vivo, però qual è stata la sensazione che hai provato un mani in cui l'hai finita a registrare e dall'altra parte avevi un produttore che ti guardava e non tanto sulle parole, ma sul suo atteggiamento, proprio sul suo sguardo, hai capito che in fondo avevi colto qualcosa in più e quel punto che hai provato. Quando ho lavorato alla produzione di questo brano, l'ho lavorata con Angelo Doria che saluto e ringrazio, perché ha stravolto in positivo quello che era il brano, perché ho chiaramente fatto una piccola demo di come l'avrei voluto, come l'ho immaginato, e lui mi ha bloccato. Cioè è una di quelle persone che tu dici tante volte vai all'opposto e sembra una cosa diversa che magari all'inizio sei un po' così. Invece lui con una sensibilità incredibile mi ha detto no Dani, sentila così. E lui nel giro di pochissimo ha fatto quattro accordi col pianoforte e ho detto wow. quindi c'è si è creata una sorta di empatia tra noi due e quindi sono rimasto molto soddisfatto di quello che poi è il prodotto finale. Invece l'altro brano l'hai portato dal vivo in una situazione. Qual è stata la reazione? Inizialmente tu davanti c'è un pubblico che non parla nonostante tutto sta in silenzio ma quel silenzio che poi parla racconta e ti rasmette quell'energia involontariamente perché poi sei concentrato sul brano sei concentrato di non sbagliare ma quell'energia la senti qual è in quel momento la tua sensazione che provi? Allora nei momenti iniziali è sempre tutto molto sul filo del rasoio quindi però appena inizi a cantare proprio tutto si spegne rimane soltanto quel filo di luce che magari illumina il palco e tendenzialmente smetto di osservare realmente la platea quindi magari lo vedo il pubblico lo osservo è chiaro cerco anche di creare un contatto con loro ma è come se esistessi solo io sul palco questo mi permette di sentirmi più libero di esprimermi al meglio un po' così nell'immagine romantica dell'artista piccolino da bambino che provava a cantare nella sua cameretta allora scusami ma a questo punto invece poi quando hai finito a suonare chiaramente hai rincontrato le persone che ti hanno ascoltato oltre a farti complimenti ti hanno detto qualcosa di particolare oppure ti hanno detto anche qualcosa eccitazione alla tua canzone che in realtà gli hanno ricordato qualcosa qualche sensazione qualche emozione ma in particolare quasi tutti quelli che poi mi sentono mi sentono cantare magari non si aspettano questo tipo di di canzoni nel senso che la maggior parte delle persone che magari mi vedono mi osservano dicono ragazzino tutto carino sistemato dice porterà un brano delicato invece la maggior parte delle volte che non è questo il caso di Deuterio però la maggior parte dei miei brani sono tutti pieni carichi di energia che è proprio un po' l'opposto di quello che generalmente sono io visto dall'esterno perché sono molto pagato molto sensibile molto tranquillo però la tiro fuori quando appunto sono sul palco e quasi tutti mi parlano della particolarità della mia voce dicono ah sai una bella voce ha un suono particolare che rimane insomma impresso perché ho un difetto cordale che porta un po' questo suono un po' graffiato e quindi mi identifica abbiamo detto ai vari Guccini di Andrè c'è qualche artista in cui un pochettino ti sei ispirato o comunque hai capito di cogliere quelle cose che in te possono funzionare cioè non hai rubato ma hai fatto tuo ed hai adattato le tue caratteristiche allora in realtà tanti perché se penso al brano precedente al primo singolo Ordigni c'è tanto sullo stile produttivo di Da Supreme nella scena contemporanea però c'è nel mio modo di scrivere c'è tanto anche di Ligabue di Gazzelle quindi artisti vari artisti vari e a questo punto progetti futuri oltre che a portare e promuovere questo singolo da qui a Natale visto che Natale nasce non per caso certo allora sì come progetto un altro brano che ancora non è stato definito definita insomma una data in cui dovrà poi uscire comunque sempre nel periodo primaverile penso questo brano questo brano chiaramente ormai sarà collegato sempre al tema bellico ma non voglio fare molti spoiler quindi se qualcuno comunque vuole seguirmi volesse seguirmi mi trova su Instagram mi chiamo Danienne e uscirà anche qualcosa per Natale quindi allora ci terremo sotto controllo ti osserveremo e ti seguiremo con Instagram a questo punto oltre che ci hai detto già i tuoi indirizzi ci mancano soltanto i saluti finali sì allora intanto ci tengo tantissimo a ringraziarti e ringraziarvi per avermi invitato nella trasmissione e ci tengo a ringraziare Up Music che è l'etichetta da cui sono seguito e soprattutto Giancarlo Genise che ha permesso di realizzare tutto ciò perché è stato lui insomma l'artefice del progetto Up e ci tengo a ringraziare nuovamente Angelo Doria che saluto veramente non so come descrivere la mia gratitudine per il brano che abbiamo realizzato insieme e anche un saluto speciale a mia nonna che mi segue sempre e quindi poi appena torno a casa a Reggio perché come dicevo sono di Reggio Calabria passerò a salutarla e abbracciarla Studio 7 TV e Sport Picciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro Ospite della Contrata commanders 걸�ieron di Milano clicchio e voi tornare nel pollio neuство permane quando fa